La cosa più bella di questo lavoro è proprio in live, perché si percepiscono, c'è uno scambio, no, di emozioni tra il palco e la platea in questo caso. Credo sia, credo sia il massimo, ecco, per chi sta in questa, da questa parte. Siete abbastanza carichi? Sì! Soltiamo un po'? Proviamo con questa. Vorrei portarti oltre le luci e gli sguardi, oltre le tue convinzioni, perché vorrei descriverti ciò che è in avanti, saprai di on, saprai di te. Come sorprendermi senza sfiorarmi, vorrei che il giorno, quel brivido fosse qualcosa di diverso e diverso da te. Come piace a me. Soltiamo un po'? Soltiamo un po'? Soltiamo un po' 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 Soltiamo un po'